L'ora di merdi e un dama, nella ora che le scabadi arriva al suo caso di Antelenoir, ha chiedato a tracare, e la dama ha chiedato sorprendente per un tipo che logra di quita la sua pertenenza e la sua scuola va fuori dal sito. La polizia ha chiedato a presentare nel caso un attimo dato di sospicciosa vicina per la scuola e buscata in area. Il team di attacco lo continua con l'investigazione del caso.